Dai numeri e dalle premesse potrebbe essere il più grande investimento economico mai fatto in Molise e la più grande possibilità di crescita e sviluppo legata alle vocazioni del territorio. Stiamo parlando del progetto di recupero e valorizzazione della rete tratturale regionale di cui il comune di Campo di Pietra è ideatore e capofila. A parlare prima di ogni cosa sono i numeri 129 milioni di euro stanziati dal governo attraverso il contratto istituzionale di sviluppo. 59 comuni più un consorzio sono già parte integrante del progetto mentre altri 35 sono in fase di adesione. In pratica tutto il Molise, da Termoli a Campobasso, dai Serni a Venafro compresi i paesi delle Carresi. Al centro dell'iniziativa la lungimirante intuizione del sindaco di Campo di Pietra Giuseppe Notartomaso. Il progetto è molto articolato, è molto complesso, non è un progetto che tra l'altro si realizza in qualche mese. Si parte appunto dalla fruibilità di tutti i percorsi tratturali e le bretelle di collegamento tra i borghi e i tratturi per arrivare ad avere delle piste ciclabili, pedonali e a cavallo per dedicarle a questo turismo lento che ha preso il sopravvento un po' dappertutto. Se andiamo a vedere i numeri ci danno ragione. Oltre a questo ogni comune ha previsto degli interventi nel borgo per il recupero di opere d'arte, bellezze artistiche, architettoniche eccetera appunto per aumentare quella appetibilità dal punto di vista turistico quindi aumentare l'offerta in termini proprio di bellezza eccetera oltre a prevedere delle strutture ricettive necessarie appunto per essere poi all'altezza di accogliere gli eventuali turisti. Il progetto Tratturi è stato oggetto anche di qualche critica alla quale il primo cittadino di Campo di Pietra risponde sottolineando le enormi potenzialità dell'iniziativa legata in maniera specifica alla vocazione del territorio molisano. Mi sembra veramente di bisticciare tra poveri come sviluppare l'occupazione perché la parola occupazione, sviluppo occupazionale colpisce solo che poi rimane monca indichiamo anche come vogliamo sviluppare l'occupazione questa dei Tratturi potrebbe essere un'occasione unica e irripetibile credo, se tutti quanti ci crediamo e ci lavoriamo ma perché questo? Perché appunto mettiamo in campo e coinvolgiamo tutti gli ambiti della vita molisana quindi a partire appunto dal turismo a partire dall'agricoltura perché se sviluppiamo i prodotti tipici locali la loro trasformazione quindi riguarda sicuramente l'agricoltura l'artigianato, il commercio quindi riguarda un po' tutti gli ambiti appunto produttivi e che possono in qualche modo sviluppare poi occupazione per davvero L'arco temporale di realizzazione del progetto è cinque anni un periodo che servirà a valorizzare non solo i Tratturi ma tutto l'indotto economico e le bellezze paesaggistiche e paesistiche che ad essi si legano